Saranno più di 350 gli atleti al Via Domenica per il grande ritorno della Sky Race Val Malenco-Val Poschiavo. L'appuntamento è alle 9 a Lanzada per il Via La Sfida sui 30 km di un percorso duro e selettivo. La gara parte dal centro sportivo di Pradash qui a Lanzada e attraversa tutti gli alpeggi della Val Malenco e della Val Poschiavo quando si scende. Partiamo da Pradash, si arriva fino a Tornade, si sale fino all'Alpe Ponte, Cima Sassa, poi c'è un lungo saliscendi fino all'Alpe Musella passando per l'alpeggio d'Orso dei Vetti. Si arriva a Musella e si scende fino all'Alpe Foppa per poi tornare a risalire verso Campo Moro dove si passa sul muro della diga e si va fino a Campaniera e si inizia a salire fino al passo di Campaniera che è il punto più alto della gara e anche il punto più tecnico sia in salita che in discesa. Da lì cominciano 10 km di lunga discesa fino a Poschiavo dove si attraversano gli alpeggi di Quadrada, Selva e poi si arriva in centro a Poschiavo attraversando tutta la via centrale del paese. Alla vigilia della gara, prima del risponso della montagna, gli organizzatori della sportiva Lanzada e della sportiva Palù hanno già ottenuto due importanti riscontri. Il plauso delle due comunità e degli enti pubblici per aver riportato la Sky Race e il tutto esaurito nelle iscrizioni registrato proprio negli ultimi giorni che ha richiesto un allargamento da 350 a 360 partecipanti. Sabato 19 agosto a Lanzada si potranno ritirare il pacco gara e i pettorali. L'arrivo del primo atleta, domenica, è previsto intorno alle 11.30. Il percorso è già tutto segnalato e ogni giorno i volontari e le guide alpine lo battono per ulteriori verifiche. All'arrivo nella piazza comunale di Poschiavo la festa sarà per tutti.